anche paolo tofoli a seguire gli allenamenti di lorenzetti con l'under 24 una questione di aggiornamento oppure di puro piacere di continuare a vedere pallavolo anche nei mesi estivi ma no tutte e due di base si è venuto a seguire angelo insomma c'è sempre da imparare dai suoi allenamenti quindi ho approfittato venire a trento due giorni e niente stare insieme a lui per parlare di pallavolo degli allenamenti e poi ci piacerebbe chiarire con te un aspetto storico perché nelle tante presentazioni che angelo ha fatto durante questa stagione a trento spesso detto io ho iniziato ad allenare perché avevo come palleggiatore rivale paolo tofoli affano ai tempi e ho dovuto smettere perché lui era troppo forte ma no questo io non lo so beh angelo ha due anni più di me lui giocava palleggiatore nello stesso mio ruolo però c'è da dire che io avevo cominciato a giocare in serbia a 16 anni palleggiavo e schiacciavo alla fine lui aveva 18 però non ci siamo mai incontrati poi la fine poi lui ha giocato ha fatto subito allenatore da giovane proprio darsi che abbia smesso meno me ma era stato costretto dalla società gli dobbiamo lasciare il posto a me comunque anche angelo è stato un grande palleggiatore comunque diciamolo è andata bene a tutti e due comunque nei rispettivi ruoli direi no si si beh lui insomma grandissimo allenatore alla fine io ho giocato di più adesso si ancora mi reputo un novello allenatore infatti sono uno qui per venire a seguire lui è stato uno dei primi giocatori anzi il primo giocatore che ha creduto in trento nel 2001 il tuo arrivo indimenticabile quattro stagioni ricche di di belle cose e soprattutto adesso come vedi trento da fuori ma eh guarda facevo la strada proprio oggi venire qua era sempre un bel un piacere insomma ci ho giocato quattro anni e detto più tu bene probabilmente ho dato un po in là per questa società perché avevano fatto un anno di di a1 e poi con allenatore bruno bagnoli e quei tempi venne il presidente mosna e massimo dal fuoco era direttore sportivo e accettai insomma credetti in questo progetto importante di portare la pallavola ad alto livello a trento e penso insomma che ci sia riuscito poi beh dopo trento ha vinto campionati del mondo scudetti quindi penso ecco il mio più piccolo dato credibilità la per questa per questa bella realtà hai avuto la vista lunga come si dice in gergo da palleggiatore da grande palleggiatore quale sei stato un tuo giudizio qualcosa su simone giammelli che magari non hanno detto tutto tu hai un occhio sicuramente più esperto rispetto a questo giocatore ma ecco esperto ma tutti basta anche non avere l'occhio esperto si vede che è un grandissimo palleggiatore è un palleggiatore talentuoso io non lo conosco personalmente però mi hanno parlato bene di lui anche come bravo ragazzo uno che si applica intelligente era uno dei primi che mi parlò anche fu unico agricola che l'ho allenato eravamo proprio in spiaggia a fano lui mi dice guarda che quando giannelli venne la prima volta in a1 guarda che lui fregherà il posto all'altro palleggiatore vedrai chi gli fregherà il posto infatti gli ha fregato dopo è diventato primo palleggiatore quindi diciamo di giannelli si è sempre parlato bene non sono adesso io qui a dirlo che è bravo insomma c'è una caratteristica però di gioco che in cui ti rivedi in gemelli del palleggiatore che sei stato grandissimo ma diciamo come caratteristiche tecniche sono diversi lui che parte che più alto è un giocatore che sa un po fare tutto si vede che molto talentuoso quello che vedo lui che subito visto lui è magari quel pizzico di spavalderia insomma già a 18 anni 19 sembrava che palleggiava un veterano quindi secondo me si vede insomma che ha padronanza la personalità e poi insomma diciamo è bravo un po in tutto e sicuramente sarà il palleggiatore per i futuri 10 anni di nazionale